senta guru atmananda lei che ha provato la beatitudine del sé nel profondo assoluto nella vita dopo la vita cosa ne pensa di certi conflitti che stanno avvenendo sulla terra ci risponde la mia profonda saggezza adesso io vi narrerò il vero motivo di tali conflitti ci dica ci dica siamo tutti ricchi è meglio ridammelo giuva ancora la terra mia voli dai e di dammelo è mio mamma va a dare a me non va a dare a te anzi papà va a darlo perché papà che è dei cieli che è il dio dei dì ti dico te mando un piccino e morirai per forza perché è mio è mio è mio e quell'altro ah lo rivoli ma ma ci stiamo noi è mio non mi sia noi io devo rimando di rimando il ministro che è il mio è tuo è mio chi se ne frega dei due altre è mio è mio e poi il padre mio è più vero del tuo e quindi morirai va bene va bene va bene poi arriva l'altro bambino che dice che stanno a fare questi due eh oh eh oh c'è stato a spartire il territorio allora sai che ti dico tutto a chi è l'amico mio e beccare questo missile tiè beccare questi droni tiè 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 è che l'amico mio e vuoi grazie